Ora guardate, non si tratta di essere degli ambientalisti e degli ecologisti, il che non farebbe senz'altro male, ma è anche un ragionamento di natura economica che facciamo. Non vi lamentate del ritardo economico della Calabria, della immigrazione cui sono costretti i vostri figli, dei posti di lavoro che mancano, della sottooccupazione, perché abbiamo l'oro, abbiamo il petrolio, abbiamo l'argento, abbiamo le pietre preziose e non sappiamo utilizzarle, non sappiamo venderle, le trattiamo male, le bistrattiamo. Qualcuno mi dirà, ma la pineta di Giovino, nel caso specifico, ma potremmo parlare di tantissimi altri luoghi della Calabria, viene pulita periodicamente. Bene, e altrettanto periodicamente, con una frequenza più alta, viene sporcata, viene danneggiata, viene oltraggiata. Lo abbiamo ricordato più volte al presidente della regione, Mario Oliverio, avrebbe dovuto affrontare con maggiore decisione sul piano politico questa emergenza dei rifiuti in Calabria. Ci pare che non sia stato fatto. Ripetiamo, è una cosa senz'altro difficile da affrontare, ma ci sarebbe piaciuto poter riscontrare un impegno politico maggiore. E lo diciamo anche al sindaco di Catanzaro, in questa fase in cui si sta discutendo quale dovrà essere il futuro di un'area vastissima, di circa 230 ettari, che da questo luogo della pineta di Giovino, dal quale vi stiamo parlando, in direzione nord, verso Crotone, fino al confine con il fiume Alli, e cioè entrando nel territorio di Simeri Cricchi, si sta appunto discutendo del futuro di questa vastissima area, che dovrebbe essere un futuro di turismo, di ambiente, di innovazione, di grandi visioni, di una progettualità nuova, di un'idea di una Catanzaro che parla al mondo come città vocata al turismo, una città che si riappropria pienamente della propria dimensione marittima e marinara. Guardate ancora nell'immaginario collettivo della popolazione calabrese, ma anche del resto d'Italia, il capoluogo calabrese è visto come una città arroccata, arroccata su dei colli, eppure può godere di una vastissima area marinara, di un bel tratto di golfo di squillace, di questa pineta straordinaria, se si avesse lungimiranza politica, se si avesse grande visione, e speriamo che la si avrà, in questi giorni si sta discutendo molto, maggioranza e opposizione si stanno confrontando, anche talora con dei toni dialettici piuttosto forti, speriamo che prevalga questa visione alta, questa idea di riuscire a progettare un futuro diverso e un futuro nuovo per Catanzaro.